Secondo me è molto positivo che i tifosi del Napoli possano andare negli altri stati a tifare, così come mi auguro che siano garantite le condizioni di sicurezza per tutti, così come mi auguro che se ci saranno ancora, mi auguro di no, violazioni delle regole, ad esempio con azioni discriminatorie e razziste, ci sia che ha il dovere di intervenire, che lo faccia, non succeda più quello che è accaduto a Inter-Napoli nei confronti di Calidou-Coulibaly, quindi insomma auspichiamo tutti poi che possa essere una bella partita, che possa essere una giornata di sport dentro allo stadio, fuori lo stadio e che quindi sia tutt'altra storia rispetto a quello che si è visto sempre a San Siro nella partita Inter-Napoli.